Il conflitto immanente tra la vita e la forma è condizione inesorabile non solo dell'ordine spirituale ma anche di quello naturale. La vita che si è fissata per essere nella nostra forma corporale a poco a poco uccide la sua forma. Il schianto di questa natura fissata è l'irreparabile condivinuo invecchiare del nostro corpo. Tutto ciò che vive per il fatto che vive ha forma e per se stesso deve morire, tranne l'opera d'arte che appunto vive per sempre in quanto è forma.